ma nella polvere e nella saggia del polosseo dove aggivano i rudi graziatori uomini che andavano dalle costate più lontane e si giocavano via e quando l'imperatore condizia e quando l'imperatore faceva così addio a grandetore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti